Vittorio Sgarbi e Il Volo sono stati nuovamente protagonisti di uno scontro a distanza sulla questione ingaggiosi, ingaggiano, alla cerimonia di insediamento di Donald Trump. Barbara D'Urso, influenzata e senza voce, ha mostrato nell'ultima puntata di Domenica Live uno scambio di mail e messaggi tra il manager del trio di cantanti e le organizzatrici del concerto che sembrava confermare in via definitiva quanto professato dai ragazzi qualche settimana fa. Ancora una volta però Vittorio Sgarbi si è scagliato contro di loro, sbandierando sui social di voler adire per vie legali e ha distrutto passo passo le prove mostrate dalla conduttrice indiretta. In un lungo post il critico d'arte ha smentito così l'invito di Trump a Il Volo e ha scritto «Credo più al presidente degli Stati Uniti che ha dichiarato di non averli invitati che a tre pischelli preoccupati del loro destino per aver detto una clamorosa bugia. Il documento è palesemente insignificante». Per tutta risposta, sull'account ufficiale Facebook del trio è apparso un post in cui leggiamo «Dopo averne data visibilità per 24 ore, rimuoviamo il post con la documentazione relativa all'invito per evitare ulteriori sterile polemiche ed eventualmente spostare la questione nelle sedi più opportune. Il materiale, leggiamo ancora, resta comunque disponibile per la consultazione presso gli uffici del management». Grazie a tutti!